Diretta dove il re carnevale con tutto il suo seguito è arrivato qui davanti al nostro bel palco allestito qui in piazza Umberto I e comincia l'esibizione appunto di tutti i carri allegorici infiorati e dei gruppi mascherati che sono appunto appena giunti qui in piazza tanta tanta la confusione e insomma tanta festa siamo tutti qui ben contenti insomma di partecipare a questa grande festa insomma il carnevale avolesi è tanto atteso non soltanto dagli avolesi ma da tutti insomma i turisti che vengono ogni anno qui ad Avola insomma una grande festa io alle mie spalle appunto ho il seguito della sfilata della grande sfilata di carnevale e l'attesa del pubblico potete vedere dalle immagini di Salvo Lentini quanta folla riempie tutta per intero piazza Umberto I ecco il prossimo carro allegorico che sta per arrivare proprio qui sotto l'arco illuminato di piazza Umberto I tanta attesa ripeto una piazza Umberto I veramente colma di gente avolesi e non ecco che si muove il carro allegorico sta per affacciarsi a questo grande questa grande illuminazione che è stata allestita qui in piazza Umberto I come continuità insomma del Viale Lido e la musica emessa dal questo palco e vedete la particolarità di questa carnevale anche l'illuminazione della lumine led che vedete inquadrato qui all'ingresso mentre entra il carro allegorico cuore e passione uno dei più bei carri allegorici di quest'anno vedete la gente che lo segue con attenzione è proprio qui all'ingresso c'è questa sorta di porta luminosa tra l'altro fra poco ci dovrebbe essere lo spettacolo della luminaria proprio qui in tutto Corso Vittorio Emanuele in questo tratto che va da piazza Trieste a piazza Umberto I passione è realizzare la tua opera da arte presentata al magnifico pubblico a volete grazie dunque a cuore e passione di Sebastiano Piccione ci sarà un'armonia proprio di lucide al cielo uno spettacolo di luminaria vedete dal palco la musica che accompagna proprio l'entrata in piazza dei carri vedete adesso intanto la conduzione di Corrado Santoro qui dal palco ricordiamo che oltre a diretta di Canale 8 in diretta tv c'è anche la diretta radiofonica delle emittenti radiofoniche a volessi che sono collegate e che in questo momento stanno trasmottendo infatti c'è Radio Sicilia Radio Power Station Radio Dimensione Suono e Radio Luna quindi un grande processo mediatico per questo canale carnevale 2013 pronto all'ingresso un altro bellissimo carro Maria Rossa uno dei più belli il carro allegorico che sta entrando per il resto sono questi due forse quelli che si differenziano un po' rispetto agli altri il carro che ha un'illuminazione un po' particolare oscura ma particolare il nome è proprio Cullo Cicini e i Sacchetti Vacanti adesso sentiremo gli speaker qui dalla piazza che lo presenteranno come diritto ecco appunto lo speaker sta per presentarlo di ammirarlo con degli effetti spettacolari come effetti spettacolari saranno quelli che potrete vedere alle 20 e 30 più tardi tra poco ecco appunto annunciata l'esibizione delle luci danzanti però vedo che comincia a essere un po' triste io lo so perché perché sei dispiaciuta perché dopo domani il re burlone brucerà proprio qui in piazza beh sì dopo tanta festa e poi è un po' triste insomma vedere bruciare il carro il capo dei carri possiamo chiamarlo così perché è lui il primo carro quello che che dà inizio alla nostra grande festa volese però se non termina questo carnevale poi non ci sarà quello dell'anno prossimo quindi è un rito vedremo ogni anno le edizioni come si vanno a rinnovare intanto insomma dispiace ogni anno che il re burlone proprio il giorno di martedì sera viene bruciato in piazza la tradizione particolare anche questa e poi c'è il mercoledì decennio quindi come dicevamo prima nella lunga diretta dal Viale Lido la quaresima e proprio bruciare il carnevale significa passare da una stagione all'altra dobbiamo dimenticare anche che il carnevale è la festa della terra lascia un po' l'inverno arriva la primavera e quindi arriva anche la fioritura di tanti frutti per cui questo è anche uno degli altri e dei tanti significati che il carnevale rappresenta oltre al fatto che è la festa per i bambini più bella insomma mentre vediamo il nostro Nino che ci saluta da lontano impegnato con le riprese ecco che arriva ecco che arriva il carro benvenuto al carro allegorico di Rametta Francesco Rametta Daniano e Rametta Danilo con loccicini e sacchetti vacanti questo è il titolo del carro che sta entrando in questo momento in piazza Umberto I tutti gli occhi su questo bellissimo carro un altro carro allegorico il carro allegorico con loccicini e i sacchetti vacanti per questo cittadini il tanti uesimo anno del carnevale qual è anche il tema che rappresenta il nostro sintattico carro allegorico e questa tornata crisi però io la relazione ve la leggo tra poco anche per i giurati ma prima c'è una vera e coglia esibizione ecco che arriva in tutto il suo splendore quest'altro carro allegorico un po' macabro ma è evoluta questa cosa streghe, sirene c'è un po' di tutto la samba ad accompagnare il carro e quest'altra musica di sottofondo che viene proprio dal palco di piazza Umberto I l'allegria dei clown Maria Rosa sì che sono nella samba dicevo proprio poc'anzi e insomma ci fanno assaporare la festa carnevalesca che carnevalesca senza samba però questa è una particolarità perché c'è un gruppo musicale che è un gruppo mascherato che è anche un gruppo musicale insomma si è visto poco anche qui per le vie di aula sfilare un gruppo mascherato che fa anche da gruppo musicale che mette tanta allegria perché poi anche le maschere sono belle nel frattempo salutiamo Tony Sax Margherita Di Berio i presentatori della serata qui dal palco di piazza Umberto I e anche l'osso Corrado Santoro Salvo Tex che stanno conducendo in maniera egregia dal palco di piazza Umberto I questa magnifica serata ci siamo ritrovati tutti qui sul palco in occasione del nostro carnevale Maria Rosa un po' sconcio questo carretto però vedo che c'è una pupazzola una nudità dobbiamo consigliarli consigliere gli acquisti di Canale 8 no? dai Giovanni sei sempre un po' polemico tu ovviamente si scherza e nel frattempo salutiamo tutti gli amici di Canale 8 che ci stanno seguendo durante la nostra diretta grazie a tutti sappiamo che siete in tanti a seguirci ecco nel frattempo la musica che fa da sottofondo al carro con lo Cicini e Sacchetti Vacanti di Lemetto Francesco Damiano e Danilo il callo allegorico in gara una musica azzeccata quella per questo carro abbiamo detto prima che è un po' spettrale però chiaramente avrà la sua allegoria cioè il fatto che ho Cicini e Sacchetti Vacanti quindi c'è si vedono tante cose l'allegoria forse anche è la satira è la satira verso la televisione che fa vedere altre cose ci sono altri mondi ecco c'è il mondo arabo che è un po' in pera e si diverte e ha tante cose da proporre e invece c'è chi non può tirare a campare il mondo arabo dicevi? cosa ti fa pensare il mondo arabo a proposito di stasera? il rovescio della medaglia del mondo quello a cui stiamo andando un po' incontro ecco ci consola il fatto che dietro c'è una speranza insomma che in un altro mondo o su Marte o sulla Lula si può ricreare un altro tipo di vita però dobbiamo dire al di là di questo dell'allegoria di tutto il carro è molto bello anche nei particolari insomma il lavoro in cartapesta e le proporzioni ci sono tutte i nostri maestri artigiani sono veramente veramente bravi ringraziamo dunque gli amici Rametta Francesco Rametta Damiano Rametta Danilo che hanno realizzato questo carro allegorico insinutato con l'Occisione e il segretto vacante e adesso possiamo ascoltare l'istituzione come di consueto poi i carri si sistemano nei vari punti strategici della piazza per dare spazio ai carri seguenti e lo spettacolo dei clown musica carnevalesca che riscalda questa fredda serata cacao meravigliao Giovanni cacao meravigliao ricorda anche uno spettacolo in piazza le ragazze coccodè ai tempi in cui su canale 2 Rai impazzava Renzo Arbore con l'altra domenica ecco che sta arrivando il carro infiorato dal tema musicale con su scritto Teatro Garibaldi quindi riferimento al nostro bel teatro con strumenti musicali particolari c'è un'arpa un controbasso violino e poi insomma dietro c'è la chitarra strumento molto usato dai nostri giovani oggi Teatro Garibaldi che finalmente diciamo da due anni è una realtà anche per la città di Avola ed è stato annunciato anche quest'altro carro infiorato il carro di Guterri Francesco Chista e Nauta è tutta Nauta suonata in questo momento musicale come l'arte e il contrabbasso la città e la rire il bandolino si sorride all'interno di un clamoroso sfondo ossia quello del Teatro Garibaldi patrimonio storico e voglio interpretare in maniera figurata la tua amministrazione comunale di Avola esaltandola per i rilevanti obiettivi raggiunti in questi pochi mesi ecco che il carro infiorato si accinge proprio ad arrivare al centro di Piazza Umberto I tanti bambini all'interno del carro è una tradizione anche questa sì la piazza poi vedi segue un altro ritmo rispetto al via Lido perché chiaramente il corteo dei carri si è accorciato e la gente può seguire più direttamente si sta tutti vicini infatti c'è un certo calore qui in piazza sì e poi sono più vicini i carri quindi si seguono con più facilità ecco c'è da dire che è da sottolineare lo sforzo anche dell'amministrazione comunale anche per quest'anno questa nuova amministrazione guidata da Luca Cannata e in questo caso dalla sessore Giuseppe Morale perché fare un carnevale di questi tempi è difficile è stato difficile e per il 2013 insomma lo spettacolo e la manifestazione è riuscita ecco adesso che sta per arrivare un gruppo un gruppo mascherato giusto il tempo di dare spazio al gruppo vedete vedete dalle inquadrature di Salvo Lettini proprio una piazza vario pinta piena di russi pieni di colori sia i carri sia l'illuminazione fanno effetto e poi chiaramente i colori delle maschere delle persone dei bambini con i costumi particolari e nel frattempo saluto gli amici della Stingim della Pantafit sono tutti qui e ci salutano e tutti i saluti per canale 8 il pubblico volese che segue il nostro carnevale detto che il carro infiorato prende posto al centro della nostra piazza un quarto primo noi però l'avevamo detto lo ripetiamo ancora una volta forse prima non si era sentito nel frattempo il carro infiorato si sta spostando per dare spazio al gruppo mascherato Maria Rosa quando vai via? quando te ne vai? quando vai via anche tu no io resto qui perché io aspetto le donne di Dac e le ragazze le donne di Ararat ah si? e lei mi sa che adesso insieme a te nostro Giovanni sta aspettando lo spettacolo serale e non soltanto lui ecco gli speaker che stanno presentando l'arrivo del gruppo mascherato volerò con te nel magico mondo il gruppo mascherato di Cristina Zappulla e Giacomo Montoneri stanno per arrivare il centro della piazza si sta insomma svuotando per dare modo al gruppo mascherato di esibirsi ecco che si sta muovendo il gruppo I fly in the magic world il gruppo mascherato e non ha formato la 40 componenti circa di serenze mazini e femminile ogni componente rappresenta un dei quattro elementi principali dall'alto terra da sotto ovviamente ringraziamo dalla piazza il nostro editore Sebiro Caro per la diretta più bella della Sicilia l'unico emittente canale 8 che segue gli eventi siciliani quindi facciamo lui un grande saluto ecco che al frattempo arriva il gruppo mascherato pronto per la sua esibizione con la musica Gangnam Style il tormentone di quest'anno che sta facendo ballare proprio tutti Giovanni tu la conosci questa canzone un tormentone lo sai la canzone di questo dj giapponese sono rimasto al pulcino piopio sei rimasto al pulcino piopio siamo un po' arretrato Giovanni dai guarda come ballano tutti i ragazzi la conoscono proprio tutti ecco che ci stiamo sistemando e poi scusa io ho gusti particolari per la musica mi piace molto Mamma Sita e beh sì chiaro riferimento al nostro dj avolese che martedì esordisce con un nuovo singolo che si chiama Fiesta bello questo gruppo mascherato Maria Rosa sì veramente molto bello e colorato soprattutto facciamo allungare il nostro gruppo che è il mondo che abbiamo fatto di titola I'm not in the world e quindi voglio raccontare il magico mondo e presentiamo questo pentacolo al nostro pubblico con la nostra presentazione posizione ragazzi e quel capogruppo insomma che da i suoi ordini ai componenti del gruppo mascherato il countdown e parte l'esibizione del gruppo mascherato al fly with you in the magic world volerò con te nel mondo magico live e parte l'esibizione lo ricordiamo siamo ancora in diretta sul canale 8 anche visibili su streaming il nostro sito è www.canale8.org salutiamo tutti gli amici che ci seguono come sempre in diretta per seguire tutti gli eventi ringraziamo il nostro editore Sebilo Caro per la possibilità e grazie a lui tutte le dirette di canale 8 grazie a Sebilo Caro insomma siamo sempre presenti in ogni evento per farvi gustare ogni attimo delle feste degli eventi a volesi e non solo non solo chiacchiere non solo chiacchiere e questo è anche il titolo che è stato dato a questo carnevale a volese 2013 e questa è la nostra presentazione in verità di Caspita di Camus grazie a tutti